Per questo andremo a collaborare con tutti i poli educativi e dell'ambito della formazione perché ovviamente tutto quello che riguarda le nuove generazioni fondamentali poi possiamo fregiarci anche di avere il certificio che ha un'istituzione storica e quindi senz'altro andremo a collaborare subito anche nell'ottica del distretto con le nuove generazioni attraverso delle collaborazioni con i poli formativi e questo sarà anche una prima azione a cui dovrà far seguito la risposta nostra alle progettazioni che metterà fuori l'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto all'inizio dell'anno che avrebbe fatto uscire delle misure e dei progetti dedicati alla filiera tessile. Noi con questo progetto, con questa candidatura, grazie anche agli sforzi del sindaco siamo riusciti a costruire un sistema come si diceva prima e dobbiamo subito sfruttarlo per poter concorrere alle progettazioni europee incanalarci anche nelle progettazioni europee per far arrivare qui dei fondi europei per avviare e potenziare tutti quelli che sono i progetti. Queste sono le prime linee.